Che cosa hai? Che spot è? Esselunga tu la conosci tutto in amore E se ti dicessi che ti mangi una focaccina? Papà! L'idea di questa campagna nasce dal passato perché Esselunga è stato veramente il primo supermercato italiano e quindi ho provato a immaginarmi se io fossi stato un bambino che nel 1957 a Milano passava davanti a questa grande insegna nella macchina dei propri genitori io probabilmente sul vetro appannato sarei stato colpito da questa S enorme e avrei provato a rifarla con la mano e questo gesto così semplice ma anche così evocativo di un bambino ha dato inizio a tutta l'idea di campagna in seguito quelle S sono diventati altri simboli importanti però di una food company che è quello che è oggi Esselunga quindi quella S diventa una S nella farina fatta dai master panificatori di Esselunga diventa la S di chi nel ghiaccio scopre dei gamberi freschissimi e diventa un po' il nostro modo per raccontare per introdurre con il copy e se ti dicessi tutti dei capitoli di una grande food company che vuole raccontare più storie ai propri consumatori sempre in maniera molto reale, molto concreta ma anche molto poetica In Armando Testa cerchiamo di guardare ogni idea di campagna come se fosse un ecosistema da guardare dall'alto e anche in questo caso il cliente ci ha aiutato facendo un grande lavoro di squadra che ha prodotto non solo 6 spot tv ma anche un restail del sito piani editoriali ad hoc per i social fino ad arrivare ad attivazioni speciali con influencer il sito grazie ad un semplice movimento di scroll regala una user experience attraverso le sezioni scopri, conosci, innamori in modo che l'utente possa approfondire i contenuti e vederli nel dettaglio con slide laterale per poi scendere e godersi dei video dove gli esperti e gli addetti di S.Lunga ti raccontano in modo divertente e colloquiale le qualità del loro servizio, dei prodotti ma anche piccoli consigli per conservarli o cucinarli Tra le prime attivazioni speciali di influencer abbiamo scelto Sofia Viscardi e sua nonna Cristina per raccontare due generazioni di S.Lunga lovers a confronto Che cosa dobbiamo fare? Scusami, ho sbagliato, io la rifacciamo Me li sono scritti così non me li scordo Allora, vabbè, facciamo così Allora, abbiamo innanzitutto i cut con Marco Abbro Francesca Romaldo Fabiano Pagliara che notte e giorno ha scritto e sistemato i test insieme a me insieme a tutto il team per ben sei spot Barbara Ghiotti, Sara Greco, Antonello Falcone Carlotta Gilardi, Chiara Panettoni la social media manager Chiara Guadagnini Uno special thanks va a Michela Sartorio perché ha trovato il payoff più la conosci più ti innamori ed è stata bravissima a coordinare tutta la colonna sonora della campagna e ovviamente un grazie speciale va a Michele Mariani che ha supervisionato tutto il progetto ha garantito che tutto fosse fatto con la massima qualità E ovviamente un grande grazie va a tutto il gruppo degli account Armando Testa coordinati dal grande Gianni Sernia Grazie a tutti per questa campagna che parte dal passato ma che speriamo abbia un bellissimo futuro Buongiorno ragazze Buongiorno Avete raccolto i punti fragola? Sempre e ancora, inizieremo Io sono Jacopo, piacere Piacere Mariana Posso aggiungerti su Instagram? Certo Ok, ti taggo eh? Sì 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 Sì